Scegliamo prima noi, scegliamo prima noi, scegliamo prima noi, no, Uther no, dovete scegliere un PG, fate l'healer, prendete un healer Come avete già scegliato i tank quindi voi? Siamo tank Perché potrei scegliere ITC oppure ASMODAN se vuoi quello specialista ASMODAN, ASMODAN Bene ASMODAN però mi serve uno che preme Eh C'è l'ho da Monzu Eh Monzu tu, non so perché non so troppo Mi doveva dire cosa giochi Monzu tu, scrivilo E poi scrivilo Guarda che pick Healer, Lily, altri healer Altri healer altri healer? non li ha altri healer la tasta da questo vero è abbastanza bene la brightwing? forse eri il trono di ghiaccio finchia no, questo non mi piace loro vanno io farei Jaina ma non sono bravo ad usarla aspettate che qua non sappiamo più il ruolo tu vuoi pensarci prima ma io posso loro ci canterano ragazzi con come si chiama con lo scarafaggio o andiamo sonia no e tc no no lili ok ora aspetta ho preso malfurion ok quindi voi dovete prendere palla va bene allora e tc non va bene si si adesso basta perché già c'è un guerriero e un tank cioè un off tank e un tank quindi o si prende un dps o azmodan io andrei meglio con azmodan è stato vabbè però c'è vabbè quello prenderà il bozzolo e ti cantererà tutti la luce non abbandona nessuno non regolare punto soltanto tanto tanto hanno preso lo specialist perché potrebbe essere l'ultimo palla po' per me si c'è valla va bene alla fine un altro prendi valla e prendi lo stun di valla penso dobbiamo fermarli un po' io sono pronta non lo so te la senti con azmodan io non lo conosco il pg quindi non so se puscia tantissimo porta del drago si va bene la mappa non ho visto va bene ecco l'inizio se lo lasci tipo 10 secondi neanche da solo quando ormai è alla ulti ti fa due torri cancello e probabilmente anche il ford no no se tu sei diciamo esperto in questo fai fai non frega ciò che praticamente lui di tc in pratica mi sono portato a livello 11 e tc il velo 9 e via così ecco dovevamo gestirlo diversamente cioè tipo chanferon doveva prendere ma io infatti non l'ho preso mi ha fatto mi ha fatto un certo obbligato alla fine ah vabbè lo so infatti porco diavolo era ora il problema è sugli stand che hanno continuamente loro i knockback e altro vedo per azmodan eh ragazzi questa partita è strana stranamente una merda e non so dove andremo a finire giusto ma non devi focussare kael abbiamo detto ieri che proprio il focus va su quello che va out of position e quello che andrà out of position al 101% è a nubarak perché va a prendere a me va a isolare comunque o il tank o te o me il problema è che kertas ci uccide tutti quanti da solo lo so appunto quindi kertas deve essere diciamo canterato non dal nostro tank ma dal nostro off tank secondo me quindi artanis dovrebbe partire tipo sempre stando vicino al nostro tank si ma non so ditemi io sto parlando alla inespettizione si cioè io non ingaggio mai per primo tento di avere una mala situazione e andare a infilarli là dietro dove riesco a farlo bravo vabbè asma non può stare da solo sotto un attimino vuoi rischiare un tempio perché c'è uno solo contro due no però un attimino quando compare il tempio allora 5 4 3 2 1 6 e la battaglia abbia inizio e la battaglia abbia inizio ungo secondo me è meglio uno ranged contro kertas che sarà sicuramente mid poi c'è a nubarak 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 c'è tykus a nubarak io che freddo c'è a nubarak oppure sono nascosti in cespugli cosa stessa cosa per kertas in attesa no qua non c'è nessun altro kertas è giù kertas è sotto via ma non c'è via non stai niente faccia mentre qua quella roba da spuccia per via via dimmelo cosa fai lo stanno ah ok 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 non pensavo di prenderlo basti la buona cosa che faceva un colpo indietro se non andava e l'ha fatto con me no 2 no te bloccano qualsiasi push però troppo insieme blocco no per se per uno faccio contro che è il tasso per un'assassima perché pavala pavala prendi via giovanna Lì via Oh che valla Faccio sopra Vado a prenderlo Guarda che è tanto scappato Vado a prenderlo Vido che è meglio che stai qua giù Che stai qua Vai 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 Valla vai continua se l'ha bloccato Occhio raga Valla aspetta Al massimo stai dentro il bacio Ti nascondi E poi così hai in modo tale che hai la capriola Vai prendetelo Valla 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 pushiamo Vai valla Faccio che arriva Ah vai vai la torre Per collo E vedi Poter avvicinarsi Valle Muore Vuoi toffare torre Questa no Manca Keltas Attento mid Non ho il cure Non ho cure Non ho cure Fate trapano Fate trapano Occhio Ok basta Io raga devo beccare Non avete il support Andiamo Mi ritorno giù Keltas Adesso Lasciate le lane scoperte Così l'ex Prova avanti Sì sì infatti ho visto Valla ce la fa Quindi vado su Artanis E lo curo E intorno La fai Chi controllerà Il potere del drago cavallino Ma c'è No Mi passo Mi passo Vai Utter Utter Ok Perfetto Perfetto Tanto Comunque Monz Fai sempre Se puoi Il target Che se ne va Per ultimo Cioè che Puoi chiamandarsi Anche se il tank Frega Che combattono Paralleli Fai Fai Rapano Occhio Li blocco Tu non posso prenderlo Sai Trapano Peccato Utter Perché Gli ha fatto la scuola Porniamo giù Perfetto No Perfetto 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 Pusciamo qua Pusciamo qua Pusciamo qua Puscia tantissimo Arriviamo subito No Non ci facciamo tutto Cos'è Lì Basta Non lo seguire Non lo seguire Mi hai da curare Dalla Fonte Anche tu Vai Anche la torre Glorioso Via 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 Visto che bello Puscia Sotto Gira sotto Dov'è che è il talasso È sta salendo Da Vero Giu Prima di te Puter è sotto Quindi pushiamo Valla Ftani sono dovuto Ricollare Perché non avevo mana State capi Che vi faccio Tutti Indorcellare Via Stanno arrivando Sopra No Bravia Tengo sui darti Una mano Artanis Non prendete Qui Un Perciò Bene Siete Vanno Tutti Bene I guerrieri Il potere cresce negli altari Scatenate la collera del drago Oh mi ha perso nel pozzolo Infamata Allora se vedi che si avvicinano Se già vedi solo Uther vattene Che ovviamente ci sarà anche il Tycho E' un top pushar Fate conto che io non esisto per un momento Si è risvegliato Valla vicinale Non sanno che sei sotto Arrivo da valla Quindi sei solo diablo Se prende quello di top Forse ce la facciamo subito Valla tieniti Loro pushali un po' Però non morite Vai Abbas Non andate Prendilo Occhio che si girano Da quarta Uscimo qua Balla sei sola Occhio Via Via Minchia mi hanno ingabbiato Vattene vattene che me ne vado Via via Andate Non è basta No Devo andar Ma Oh no Non fare un Vita Eh Grandissimo Via Vattene 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 che c'è un Nicola Tutte cinque Beh abbiamo portato metà vita Il secondo forte Giù Aspetta a recallare Dammi una Vabbè no Dammi una quale basta Far fuori Ho pensato Ops Non gioco Vai che ce li facciamo Tutte e due Vai Qua sono Oh merda Sbagliato 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 Ragazzi Gli easy nostri Cominciate Dai Vado Oh ciò che arrivano sopra Non lo so No Se la sono fatta A balla Sbagliato Attivate gli altari Prendete il potere del drago cavaliere Vado Eh Però che cattiveria Ragazzi O sopra O mi date una mano Che cosa però Ho detto Potrei andare in crociera Ma lo usavo Sì Io mi faccio il loro secondo forte Però in casa Beh si stanno Cioè Fabritini tanto se ne scappa e poca vita Non c'ho paura Io non sto assolutamente attaccando Anche mi è cambiato Attaccate il tuo Il volo Bella Tutte e due sono arrivati A stare ragazzi A stare Furia omicida Un alleato Ha bisogno d'aiuto Bravi bravi Ho scappato Il vostro nemico Comunque sono scoperto sotto il nucleo No Ci ho curato Un minion Vai su Fabritini Minchia no Quello no Vai su gotico Su gotico tutti No Il mio bozzolo Sono senza mana E siamo Un chiodore a caldare Non c'ho fatto niente Non c'ho fatto niente Non c'ho fatto niente Non c'è un min умo Dove se ho venghi Ma c'è Vaccine C'è B Bi Gen Bi Li bella il team strano il team strano ci siamo dati per spacciare abbiamo vinto bravo mi è piaciuto questo devo andare sotto c'è uno che ho scoperto no comunque top abbiamo devastati top è stato il devasto un uccisione ahhh sei morto